E caccia al malvivente che nella serata di ieri ha messo a segno una rapina ai danni di una rivendita di tabacchi in via Duomo a Corato, nel cuore della città. Poco prima delle 21 l'uomo con il volto coperto, entrato nella tabaccheria e sotto la minaccia di un'arma, si è fatto consegnare l'incasso della giornata. Arraffato il bottino si è dileguato per le vie adiacenti. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Corato e gli agenti della polizia locale che hanno avviato le indagini per risalire all'identità del malvivente. Al vaglio degli inquirenti sono adesso i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che potrebbero aver immortalato il rapinatore prima e dopo il colpo.